Ciao a tutti ragazzi, è il vostro TommyKridd55, benvenuti in questo video Faccio questo video per dirvi intanto che ho fatto un zesso, non come i primi giorni in i video, faccio i primi video, come vi ho fatto i primi video E' tipo un vlog questo, una special, diciamo E volevo dirvi che inizio a fare i video da venerdì, o meno spesso Buongiorno, 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 buongiorno Il 21, si me lo faccio, che è domani, faccio cominciare un video Ok, prima volta che faccio i video così, lo scuolito, lo faccio sulla mia webcam Come vi ho fatto i video, come vi ho fatto il video E io mi sono i video di video E io mi sono i video di video E io ho fatto il video E io ho fatto il video E io voglio dire che sono in demo o a serie in minecraft o la fd che grazie a cebois111 il canale città branderboys enderboys111 che ender lo scelto io boys anche e 111 lo scelto cebois111 e potete iscrivervi naturalmente questo video finisce così un'altra roba che devo dirvi fantasia mi spedito con quella o plus ciao a tutti